l'innovazione è un tema centrale anche per voi l'azione è fondamentale nello stesso tempo è difficile innovare molto difficile perché l'offerta è molto vasta e anche qui il rischio è quella di legare il prodotto ad un'idea di marketing che non abbia poi però i contenuti di investimento coerenti con l'idea di che del prodotto stesso e lancio noi lavoriamo su due aspetti sia sul lancio dei nuovi prodotti e sia anche sul monitoraggio di prodotti esistenti per quanto riguarda il lancio dei nuovi prodotti noi abbiamo una piattaforma da tanto tempo che si chiama made in sync nella quale noi procediamo a fare due cose uno guardare quelle che sono le nostre idee di investimento future ma confrontarci ancora una volta riprendendo il concetto del multi manager sui nostri partner quindi con loro creiamo una sorta di percorso in cui vengono identificare delle aree di innovazione che poi si traducono idee specifiche selezione dei partner e prodotti anche dal punto di vista dei prodotti esistenti noi lavoriamo molto con il monitoraggio guardiamo lavoriamo a quattro mani con la nostra rete naturalmente distributiva con il nostro distributore e quindi automaticamente possiamo avere dei feedback dal distributore in modo tale che possiamo integrare i temi che sono più in in evoluzione quindi è in un'innovazione per noi è fondamentale non è facile ma abbiamo un modello tale che ci permette di farla